Musica e teatro Voltiamo pagina e parliamo di musica e teatro e lo facciamo raccontandovi di uno spettacolo da non perdere Si turnasse a nascere in scena al teatro Trianon Viviani venerdì 17 novembre e ne parliamo oggi con la protagonista di questo spettacolo una cantante veramente di raffinata vocalità buongiorno alla talentuosa Francesca Marini Buongiorno a te e al pubblico Come stai Francesca? Bene, bene, te tutto bene? Sì, grazie Con il Recital si turnasse a nascere rendi un omaggio veramente al grande maestro Nino D'Angelo un progetto che nasce da un'idea dello stesso cantautore e tua con voi anche Roberto Crescuolo per i testi e consulenze musicali e il regista Gaetano Liguori Come è nata questa esigenza? Avevo intenzione di portare un nuovo progetto teatrale l'anno scorso a maggio al Teatro Totò e pensavo di portare un progetto musicale perché i miei viaggi in teatro sono sempre accompagnati dalla musica Teatro Totò che tra l'altro è un po' la tua casa Sì, sì, la musica è la mia vita e quindi pensavo un po' a cosa fare e ci fu un incontro con Nino, con Nino D'Angelo appositano in cui io gli raccontai di questo mio progetto perché avevo sentito alcune sue canzoni che mi avevano tanto colpito proprio emotivamente e lui disse no, dai, mi incoraggio tanto e fu molto molto carino nell'incoraggiarmi e mi disse che canzoni fai? Io gli dissi i brani che avrei voluto cantare lui disse sei molto coraggiosa perché sono brani che io ho scritto in momenti molto particolari della mia vita e infatti io in questo spettacolo racconto il secondo Nino D'Angelo non quello degli anni Ottanta ma il secondo Nino, quello che ha abbracciato un po' la world music quindi che ha contaminato i suoi arrangiamenti con sonorità etniche insomma, un Nino D'Angelo per me meraviglioso e che si sposa perfettamente con le mie corde vocali con il mio sentire la musica con il mio modo di sentire la musica e mi sono praticamente innamorata di questi brani che sono di grande grande spessore interpretativo, emotivo e anche musicale devo dire la verità Un tributo tra l'altro eseguito magistralmente da te che sei una grande artista sia a livello interpretativo che a livello scenico nel recital vi sono anche dei testi meno conosciuti come tu hai ben detto del maestro Nino D'Angelo un artista davvero dalle mille sfaccettature Nino ha scritto questi brani per i dangeliani doc logicamente li conoscono tutti per chi non è un dangeliano doc alcuni brani potrebbero sembrare anche degli inediti però io credo che siano brani che meritano una voce oltre a quella meravigliosa di Nino perché meritano di essere ascoltati e di mandare il messaggio che hanno in sé al pubblico io spero che il pubblico che interverrà in sala se anche una sola persona riuscisse a percepire quello che ho percepito io quando ho ascoltato per la prima volta questi brani per me sarebbe una grande vittoria perché veramente lanciano dei messaggi importanti perché io dico sempre che la musica o l'arte in genere sì, deve intrattenere deve far divertire però in momenti particolari storici ha anche il dovere di far riflettere e questi brani mi hanno fatto riflettere tanto e poi sembra una magia è successa perché sembra che dicano ciò che penso io realmente di quello che oggi si vede intorno a me intorno al mondo quindi estrema attualità sì, anche se sono brani scritti c'è un brano per esempio Odio il lagrima che è stato scritto più di dieci anni fa ma è di un'attualità estrema estrema e c'è una frase che dice oso vinci oso perdi una guerra è una cosa sbagliata questa frase mi ha così inondato il cuore e l'anima che mi ha emozionata profondamente perché è quello che penso io al di là di chi ha ragione di chi ha torto le guerre non vanno fatte non vanno fatte hai ragionissima Francesca Francesca parliamo anche del tuo rapporto con Nino ecco perché fu proprio Nino D'Angelo nel 2000 a sceglierti per duettare insieme nel brano Spiezzucor è diventato poi la colonna sonora del film musical Itanic di cui lo stesso D'Angelo è anche regista e anche autore che ricordi hai di quel periodo? guarda fu un ricordo meraviglioso e con Nino con me io lo ringrazio pubblicamente perché è sempre stato molto carino io ero a Cracovia per una serie di concerti e lui mi chiamò per propormi di cantare questa canzone e io dissi no mi ha chiamato Nino D'Angelo e sono a Cracovia come faccio? quasi piangevo perché mi dispiaceva poi il pezzo era molto bello è molto bello e gli chiesi la cortesia di aspettarmi e lui mi aspettò mi aspettò e io registrai la canzone insieme a lui e ho prestato la voce all'attrice Sabina Bega e fu un'esperienza meravigliosa ricordo veramente Nino mi ha sempre dimostrato grande affetto grande simpatia grande stima artistica e umana che è completamente ricambiata da parte mia e di questo lo ringrazio perché io amo molto i rapporti umani li curo molto e sono felice quando riscontro dell'affetto della stima sincera quindi questa è una cosa bella cosa ti ha detto il maestro dopo averti visto in scena con questo spettacolo? allora lui si è fatto spedire perché ho inciso anche un cd e si è fatto spedire i brani perché era impegnato come anche per il 17 a Liegi e quindi non potrà esserci e mi ha fatto veramente tanti complimenti perché ha detto hai interpretato mi disse anche una cosa che non ripeto perché potrebbe sembrare presuntuoso da parte mia però mi disse che era orgoglioso insomma e aggiungendo altre parole di elogio molto belle che avessi scelto di fare questo progetto di aver scelto la tipologia di canzoni quindi è molto contento sì, stiamo un'ora a telefono io gli mandai un messaggio per invitarlo non pensavo che mi richiamasse invece lui mi chiamò e stiamo un'ora a telefono mi raccontò tanti anedoti sulle canzoni che avevo scelto anedoti che poi racconterò anche nello spettacolo e sì, è stato un bel rapporto con Nino e di questo ne sono felice veramente Francesca, tu avanti anche importanti collaborazioni teatrali con Marisa Laurito con la quale hai debuttato con successo in Cantata d'amore nel novecento napoletano ed è proprio a casa sua che tornerai ti emoziona questo? sì, mi emoziona perché il teatro Trianon mi ha vista nascere teatralmente parlando io al teatro Trianon come prima esperienza teatrale è stata proprio la mia prima esperienza teatrale è stata proprio al teatro Trianon sì, con Peppe Barra con Peppe Barra, anzi, anzi quindi nel 2003? a dirla tutta la mia prima esperienza è stata al teatro Augusteo con Novecento Napoletano però quella che è stata anche più longeva poi è stata la Cantata dei Pastori con Peppe Barra che debuttò proprio al teatro Trianon e quindi mi ha vista nascere e ritornare lì con uno spettacolo tutto mio è un'emozione grande ed è un bel regalo che la vita ha voluto farmi questo spettacolo, come hai detto tu i testi sono stati scritti da testi alla consulenza musicale da Roberto Criscuolo ecco, ricordiamolo la regia è di Gaetano Liguori e sul palco con me ci saranno due musicisti meravigliosi che è il maestro Pasquale Termini al violoncello e il maestro Luigi Tirozzi al pianoforte alla fisarmonica e Luigi ha curato anche la direzione musicale e c'è una sinergia d'amore così bella sul palco che io spero vivamente possa arrivare a pubblico quando c'è Traspare e mi sento molto a casa mia lì al Trianon infatti anche lo staff, ringrazio lo staff del teatro insomma perché sono sempre così gentili si può dire che mi conoscono io lo prendo in giro da quando ero alta così poi insomma non è che sono però voglio dire loro mi conoscono veramente da tanto tanto tempo Francesca abbiamo nominato io D'Angelo, Malisa Laurito, Peppe Barra insomma hai collaborato veramente con i più grandi ma quando hai capito che questa era veramente la tua strada? Ti dico la verità io credo di essere nata con la voglia di cantare io non ho mai pensato anche se io questo lavoro non l'ho mai visto come un lavoro perché mi piace così tanto da sentirmi così fortunata da poterlo fare che non l'ho mai considerato un lavoro però dalla pandemia io ho capito che deve essere considerato come lavoro perché per la nostra categoria Sì, siamo stati veramente tanto penalizzati e lo Stato non ci riconosceva niente quindi a livello di legge deve essere riconosciuto come un lavoro però per me è una passione così grande è nata con me io da bambina giocavo non i soliti giochi che si fanno insomma le femminucce lo sai no? con le bambole io cantavo, la mia bambola cantava e posso dire che il canto per me forse è l'unica maniera di esporre ciò che la mia anima sente perché non sono una brava oratrice riesco a far trasparire ciò che sento attraverso la musica e ciò che canto e scelgo sempre canzoni che mi fanno da portavoce cioè che hanno dei contenuti che riescono a dire ciò che io sento questo è stato sempre un po' il mio fil rouge durante il mio percorso artistico raccontarmi e raccontare con la musica Francesca Francesca, allora ricordiamo insieme l'appuntamento quindi si torna a San Nascere in scena dal teatro Trianon Viviani venerdì 17 novembre noi ti facciamo veramente il nostro personale in bocca al lupo viva il lupo, io vi aspetto spero veramente di potervi vedere ti ringrazio per essere stata con noi stamattina Francesca Marini noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità rimanete con noi a mattina live grazie 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 grazie